Arresti e denunce per i 17 protagonisti della violenta lite che la notte tra il 26 e il 27 giugno scorsi ha visto coinvolte a Lanciano due rami della stessa famiglia Rom dei Guarnieri. Una disputa annosa risalente a circa tre anni fa e che riguarda questioni patrimoniali, oltre la contesa di una casa popolare scambiata tra cugini. Rissa aggravata e lesioni, queste le accuse per 11 persone per le quali il GIP del Tribunale di Lanciano ha emesso ordine di custodia cautelare, sette agli arresti domiciliari, quattro con obbligo di firma. Altri due protagonisti erano stati già arrestati ad una settimana dalla rissa su ordine del Tribunale di Sorveglianza per inasprimento della pena alla quale erano già sottoposti. L'operazione denominata Santa Rita dal nome del quartiere dove la rissa è avvenuta vede in totale 17 denunciati, tra cui quattro donne e un minore non imputabile. Durante l'indagine di pulizia, coordinate dalla dirigente Lucia D'Agostino, sono stati sequestrati bastoni, stampelle di metallo, cric di auto, spranghe di ferro e persino una cassetta metallica della posta con la quale i due gruppi si sono picchiati. L'episodio ha addestato allarme sociale tra i residenti del quartiere, ha detto in conferenza stampa il vicequestore. La risposta da parte di procura e polizia non ha tardato ad arrivare attraverso l'intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio predisposti dal questore di Chieti, Ruggero Borzacchiello, con l'intervento di pattuglie del reparto prevenzione crimine di Pescara in ausilio alle pattuglie del commissariato di Lanciano. Infatti la risposta da parte delle istituzioni e delle forze dell'ordine direi che è stata immediata, efficace, perché c'è stato un certo allarme sociale da parte dei cittadini e dei residenti del quartiere di Santa Rita che hanno condotto proprio la Polizia di Stato ad effettuare un'immediata attività di indagine serrata che ha portato poi all'emissione da parte del Tribunale delle ordinanze odierne. Alle basi di questa rissa aggravata che cosa c'è? Motivi familiari interni tra le due famiglie legati a vecchia credine e a vecchie ruggi di tra di loro che poi sono sfociate nel tempo in diversi atteggiamenti violenti e minacciosi che hanno avuto come epilogo poi finale quello gravissimo della maxi-rissa del 26 giugno. Possiamo dire che adesso i residenti di Santa Rita possono stare più tranquilli? Penso proprio di sì. Dopo la risposta odierna siamo soddisfatti del risultato, delle risultanze, anche per la profiga collaborazione con la Procura e con il Tribunale di Lanciano che ha fatto proprio le risultanze delle nostre indagini e quindi dando una forte risposta proprio per la sicurezza della collettività. Grazie. Grazie. Grazie.